In Toscana cresce per il quinto anno di seguito il mercato delle compravendite di abitazioni che segna un più 8% nel 2018, calano gli sfratti e da dieci anni calano in generale anche i canoni degli affitti. Sono i numeri dell'ottavo rapporto abitare in Toscana della regione presentato a Firenze nel ciclo di incontri La Toscana che si muove. L'assessore alla casa Vincenzo Ceccarelli ha ricordato che in cinque anni sono stati 250 milioni di euro investiti nelle politiche abitative e che solo tra 2017 e 2019 110 milioni sono stati destinati alla costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, 28 milioni sono andati al sostegno all'affitto e 24 milioni all'aiuto dei morosi incolpevoli. Questi dati confermano che per la regione toscana il tema della casa è un tema che pur stando nell'ambito delle compatibilità economiche e finanziarie è stata ed è una priorità. La Toscana si è dotata nel 2019 di una nuova legge sulla casa per contrastare il disagio abitativo e ha sperimentato il bando per l'acquisto di alloggi invenduti da destinare all'edilizia popolare che conta già dieci proposte di acquisto ammesse a finanziamento. Ma qual è la situazione del panorama ERP? Abbiamo dieci aziende per la casa che gestiscono il patrimonio dei comuni, quasi 40 mila sono gli alloggi, quasi 50 mila mi correggo gli alloggi presenti sul territorio regionale e quasi 37 mila le famiglie che vivono all'interno di questi alloggi. Ora è in arrivo una variazione di bilancio per poi destinare 3 milioni di euro alla ristrutturazione degli alloggi da riassegnare che tornano ai gestori. Grazie.